Allora, ah eccolo, questo è uno dei giochi più belli di tutti i secoli dei secoli Mv2, andiamo raga Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura93 Come avete visto nella intro ho preso in mano Mv2, Modern Warfare 2 perché non lo conoscesse Ma penso che sia un titolo mondiale conosciuto abbastanza perché è forse stato nella sua era, mi sa 2009 se lo ricordo un male Uno dei giochi più belli al mondo, sinceramente è stato uno dei miei preferiti, essendo il mio preferito Lo riprendo in mano per giocare un pochino, per farvi vedere un pochettino com'è questo gioco Ovviamente non possiamo aspettarci la grafica di Black Ops 2 di Battlefield 3 però è un gioco che si può giocare Spero di non incazzarmi e niente Quindi andiamo avanti, vediamo un pochettino subito Ovviamente mi sono creato le classi perché ho visto che erano abbastanza antiche Se vedete ci sono Intervention, Demolizione, ACR, Puffarolo per sparare i puffetti Intervention Rust, il secondo Intervention, l'UMP45, l'AK47 e l'altro ACR Comunque sia ragazzi, partiamo subito, vediamo un pochettino tra la partita No, cerca di distruggere l'odio ragazzi Che palle Andiamo su tutti contro tutti e vediamo che parita troviamo Eccoci su Scrapyard Ovviamente spero sia una bella partita Spero di giocare bene per voi Perché io sto video lo faccio per voi sempre Allora io provo subito con Intervention Così Dai 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 Schifo ragazzi, che schifo Grande Dai ti ho preso in testa zio Dai Andiamo con Intervention normale Vediamo un pochettino Ragiamo qui a sinistra Speriamo di trovare qualcuno Allora andiamo qui a destra Speriamo bene No, c'è nessuno Ragazzi sono Oh grandissimo Un colpo a un mordo E muori grandissimo Grande Merda ragazzi Queste migrazioni Non vanno bene perché Da qui scaturiscono le mie morti Ovviamente poi parto di una partita già Vabbè mi spacca il culo ragazzi Vabbè mi spacca il culo Guardate Oh invece l'ho ucciso io Grandissimo Vai a cagare E' shot bitch grandissimo Andiamo Oh ce la fai mettere il uovo C'è 30 anni per mettere un cazzo di uovo Raga D'accordo Che palle Raga Che schifo Oh vai Andiamo dritti Vediamo se troviamo qualche merdaccia Grande No 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 Ma stiamo Cioè ragazzi Questi hit marker Non vanno No Ma che schifo Raga Che schifo Mi dispiace Bello Bello Bellissimo Comunque si Partiamo con la seconda partita E speriamo di Che questa volta La connessione non ci butti fuori Ed eccoci Nella mappa A voi familiare Terminal Che ovviamente c'è anche su mv3 E ho già fatto un video su questa mappa Però per farvi vedere i bug Dove potervi camperare Al meglio ovviamente E che dire Questa volta ci ritroviamo in altre circostanze Per giocare un pochettino Per fare un bel tutti contro tutti Speriamo bene E speriamo di vincere ragazzi Io voglio vincere per voi Come sempre Eh dai Muori Cazzo si Esciò Sbetti Dai Grande Lanciala Scusiti Grande Ma grande Uavvi raga Ragazzi Finiscono subito le munizioni Non va bene sta cosa Fuori Ovviamente li fai spawnare a fianco Raga Regia Ma falli spawnare un altro po' più vicini Ragazzi Fateli spawnare un altro po' più vicini Dai Ma dai Ma mi spieghi che cazzo di cecchino sei No veramente ragazzi Veramente Ma che tristezza Raga Ragazzi Cazzo Nervoso Ma stiamo scherzando Cecchini con le mitraglie Persone normali col cecchino Ma che cazzo di gioco è diventato Ma che cazzo di gioco è diventato Ragazzi Non ho mai visto una merdata del genere Non ho mai visto una merdata del genere Gente che si campera come maiali Porco maiale Infame Gente che campera come maiali Ragazzi Ma vuori stronzo Così impari a camperare No veramente ragazzi Sennò non sto A giocare in questo modo Non è possibile Cioè Non è pensabile Raga E su al pitch Grandissimo Stronzi Stronzi di merda Ma muori Grandissimo Ragazzi Ragazzi Io non so che dire Io non so che dirvi Raga Perché io Sinceramente Mi sto impegnando per voi Ma Cioè Sembra di combattere contro 3T C'è chi che mi spacca il culo Ragazzi Quella cosa più brutta È vedere C'è chi La cosa più brutta è vedere C'è chi E se la camperano come mitragliette Guardate Sembra che io spari Dopo 30 anni Veramente Non sono Cioè Non fa Ok Perché io faccio questa E veramente Chiudo Perché mi sto già nervosando Non posso neanche giocare Con il camper di merda Che trovo Ma muori cazzo No non fa Dai Sto facendo veramente schifo O meglio che vi faccia vedere Un po' di breakbox E un nemico Attivo Dobbiamo scendere un attimo Che sto mezzo Che sto mezzo morto Senta di sparare A un cazzo di Di fantasma Perché neanche lo becco Comunque sia ragazzi Io chiudo qui MW2 Adesso facciamo una bella parita Sul MW3 Sperando di divertire Cioè Almeno lì Almeno lì cazzo Qui sono tutti connessionati ragazzi Sembra che io Sia indietro a mi luce Chiudiamola qui E partiamo con MW3 Beh ragazzi Non posso neanche chiudere In bellezza il video Con Facendovi vedere MW3 Perché Mi ha Mi ha registrato mai La parita L'HTBV R2 Ma l'ha registrato in MW2DS Ovviamente Sony Vegas Non me lo legge Non so perché Mi legge solo il video Non mi legge l'audio Quindi da pure 93 è tutto Lasciate un mi piace Mi lasciate un commento Se il video l'avete apprezzato Se Avete qualche Se volete Che la serie su MW2 Continui O Se volete Sperare Peggio che mai Con questo gioco Quindi da pure 93 è tutto Ci vediamo alla prossima Ciao ragazzi